Un 45enne ed una 41enne di Bellizzi sono stati denunciati alla procura della Repubblica di Salerno per lesioni aggravate. Nella notte di Ferragosto i due, secondo quanto ricostruito dai carabinieri, si sono scagliati contro un trentenne di Monte Corvino Pugliano che in quel momento stava passando a piedi nei pressi della loro abitazione, in quanto ritenuto causa per il comportamento più volte assunto e contraddistinto da un abuso di alcolici della chiusura del circolo ricreativo che gestivano sino a qualche mese fa a Monte Corvino Pugliano. La donna si sarebbe avvicinata al giovane brandendo un coltello col quale lo stesso è rimasto ferito lievemente alla mano destra nel tentativo di disarmarla. La ferita del trentenne, trasportato in ospedale, è stata giudicata guaribile in sette giorni.